ok ragazzi ho appena fatto un video da schifo lo rifarò dopo dal baciaglio 25T adesso vi farò vedere l'M50B pesante francese tier 10 lo ho già messo l'equipage 100% quindi ricaricheranno abbastanza in fretta ha danni per in tre colpi cioè ha tre colpi nel cannone è un carro che va alla stessa velocità dei medi quasi a volte più a volte meno dipende che medio e farà tre colpi è purtroppo alto quindi se vi metterete dentro una buca vi beccheranno sicuramente alla torretta anche se voi non riuscite a vedere fuori non vi so dire quali buca però non ho molto provato una specie di buca allora a tre colpi no, quattro mi sembrava tre ah no era il foc che aveva tre ok ok, di solito vedete tipo il medio là io adesso dovrei recuperarlo questo qua, questa carro parte un po' lentamente come tutti i francesi poi parte subito e aumenta la velocità da 20 che ero è nato a 45 quanta 6 beh, in questa mappa c'è io non sono un pro quindi vado dove di solito ci vado e vado qua a sinistra se ci arrivano tanti medi qua ci fanno tanto tanto male ok, adesso aspettiamo i nemici io ho messo le lettere di metica ma non so se si vede sotto perché forse è la nuova patch o altro mi sono messo dei componenti aggiuntivi allora non sono abituato molto con i pesanti sono sempre abituato con i medi con l'artiglieria abbastanza eh, non fa tanto danno cioè ringerai spesso stare sempre attenti all'artiglieria come vedete vi ho fatto in parola 800 e più di danno con due colpi se parte quattro colpi riuscirete anche a ucciderlo ok, adesso dobbiamo aspettarli o andiamo avanti noi o andiamo avanti noi ok, eccola il primo cacciacarri ok, come vedete mi ho dingata però ho parla che l'altro mi becchi non so se l'ho beccato l'artiglieria eccole là il nostro caro MX3C90 se ne andrà a prendere come vedete io sto facendo una linea delle MX ah no, non adesso vabbè sto facendo la linea del baciaglio 25T ho già le MX già vabbè ho ancora le MX2CT allora questo qua è il primo baciaglio morto distrutto io adesso mi coprirò qua perchè mi hanno fatto tanto tanto male davanti sulla torretta l'ho ucciso adesso l'ho preso l'ho preso ok, se non l'ho preso se li vado addosso no, ok neanche detto abbiamo fatto sono stati bravissimi da questa parte abbiamo resistito ho preso tutte le riglie di nemiche hanno preso e adesso dovremmo andare ad aiutare i nostri amici io sto andando avanti perchè visto che loro si stanno dividendo da quelle parti uno deve andare dritto allora andiamo alla ricerca dei di quelli scomparsi allora c'è ancora un cacciacarri dovrebbe essere l'FV4 ah no o forse è il livello 9 si il livello 9 perchè con il nuovo patch vi metterò non so se c'era anche normalmente vi parli no vi metteranno c'è i cacciacarri vi metteranno blu i latiglierie rosse e i carri pesanti vabbè grigi così non so come abbia fatto vedermi ah ecco c'è sono tre vabbè se gli amici dovessero aiutato riuscirei riuscirei sarei riuscito anche a sopravvivere c'è c'era anche un combo perchè c'è c'è 4 di solito lo metto sempre sul 4 il kit di pazza invece l'avevo messo sul 5 che sfiga eeeh allora vittoria con il mouse vittoria col bacciallion ma adesso vi farò vedere di nuovo il oh aspetta il mouse mi pare l'avevelo già fatto il bacciallion a Grazie.